Applausi Beh, dove va? Cosa avete capito? Molto di spirito, nonostante qui Prima di dare la parola al Presidente che era il padrone di casa intanto ringraziamo le autorità di questi giovani presenti e alla faccia di chi qualcuno aveva detto che il liceo scientifico aveva pensato in tutta la stampa di liceo scientifico se non è così, ringraziamo tutti i giovani presenti e andiamo avanti per usare la stessa frase che ho saputo in un momento forse più tardi Prima di dare la parola al Presidente una domanda per iniziare una domanda di chi si può per fare ce l'avranno fatta sicuramente tante altre persone però ti prego di differenziare di differenziare lo spirito tra come te lo faccio io e come te lo hanno passato già ma chi te lo può fare è una bella domanda ma me la fanno sempre tutti comunque ma chi ma chi ma chi ma chi